Musica Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie del Tg di Telebari e Radio Bari. In apertura ci occupiamo dell'AMIU, nove macchine per la pulizia stradale, tolleranza zero per chi infrange le regole sul conferimento dei rifiuti. E mentre l'AMIU si impegna per migliorare il servizio di pulizia, l'assessore Petruzzali subisce un'aggressione da parte di un cittadino colto in flagrante. Vediamo il servizio di Roberto Maggi. 12 mezzi tra spazzatrici e cisterni innaffiatrici e 50 uomini per il piano straordinario di spazzamento e lavaggio intensivo della città. È partito stanotte il programma aggiuntivo dell'AMIU per la pulizia dei quartieri in Murat, Madonnella e Libertà, che si andrà a sommare al servizio di sette mezzi distribuiti nel resto della città e al mezzo dedicato per la pulizia di Berivecchia. Attraverso l'utilizzo di nuove macchine sarà possibile igienizzare con prodotti specifici strade, marciapiedi e cassonetti senza dover spostare le auto in sosta. L'azienda di igiene urbana risponde così alle richieste pressanti dei cittadini per rendere più efficiente il servizio sulle strade. Parallelamente a questo programma prosegue anche il piano tolleranza zero per le infrazioni legate al conferimento. La Polizia Municipale ha reso noto che nella prima settimana di agosto sono state elevate 24 sanzioni per conferimento di rifiuti fuori orario, 6 sanzioni per trasgressione del divieto di conferimento nei giorni festivi e una multa per omessa raccolta di deiezioni canine, a cui si aggiungono le 13 elevate dai vigili ambientali negli ultimi due giorni. Lo sforzo di iniettare dosi di civiltà si scontra però con certe cattive abitudini difficili da eradicare. La scorsa domenica perfino l'assessore Pietro Petruzzelli è stato vittima di un'aggressione verbale dopo aver ripreso un cittadino che aveva gettato un sacchetto di rifiuti per terra nei pressi del Castello Svevo. Un gesto che dipinge alla perfezione il grado di senso civico che purtroppo macchia la città di Bari. C'è stato uno scambio vivace con un cittadino, uno di quei cittadini che non ama la nostra città, che aveva abbandonato una busta di rifiuti fuori dal cassonetto. Quando il cassonetto era vuoto l'ho ripreso di questo gesto e gli ho ricordato che con questi atteggiamenti da sporcaccione prima o poi una multa se la beccherà. E quindi c'è stato questo scambio vivace. Ma il tema è che noi da un lato stiamo cercando di stare col fiato sul collo dell'azienda, dell'AMIU, per chiederle uno sforzo per rendere maggiormente efficienti i propri servizi. Ma dall'altro, guardate che molto dipende dall'atteggiamento dei cittadini. Ci sono ancora troppi cittadini che non vogliono bene alla propria città, non la amano e abbandonano rifiuti ingombranti, non adottano degli atteggiamenti virtuosi. Noi stiamo dalla parte dei cittadini per bene. E da un lato l'azienda deve migliorare, ma dall'altro anche i baresi devono fare uno sforzo per rendere Bari una città più civile e più accogliente. E solo così riusciremo a cambiare le cose in questa città. E ora passiamo alla cronaca. Quelle che vedete scorrere sono le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza durante una rapina compiuta a gennaio in una profumeria dal centro commerciale Bari Blu a Trigiano. 900 euro il valore del bottino. La decisione è di pubblicare le immagini della procura di Bari affinché si possa risalire responsabili della rapina con l'aiuto dei cittadini. Chiunque riconosca i malviventi in azione può contattare i carabinieri chiamando il 112 oppure la stazione di Trigiano allo 080 462 73 45. Nascondeva in casa una pistola semi-automatica clandestina pronta a sparare. Per questo un 25enne di Carrassi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione e detenzione legale di armi e munizioni. La pistola era nascosta dietro a un mobile nella camera da letto e sarà sottoposta ad accertamenti balistici. 34 unità soccorse, 100 interventi in mare, 500 sanzioni per la maggior parte sulla pesca illecita e in materia di navigazione di porto sotto costa. E un primo bilancio dell'operazione Mare Sicuro condotta dalla Guardia Costiera sul litorale pugliese. Massima allerta per la settimana di ferragosto quando ci sarà rinforzo dei controlli. L'intervista di Cristina Ferrigni al capitano di fregata, Tommaso Gismondi. I risultati sono ottimi, nel senso che ci sono tante attività, tanti controlli in mare e per fortuna non si registrano incidenti di una certa gravità. Ovviamente le solite chiamate per problemi con imbarcazioni, per avarie e avverse con dimetio. Quindi qualche consiglio ai bagnanti per la salvaguardia della vita umana in mare ma anche ai diportisti? I consigli ai bagnanti sono quelli di sempre, che sembrano banali ma è bene ripeterli. Sono quelli di affrontare il mare con il dovuto rispetto e quindi con la prudenza che deve sempre essere l'arma per combattere qualsiasi tipo di disgrazia. I servizi particolari saranno predisposti per la giornata di ferragosto? Sì, ovviamente saranno implementati tutti i servizi in mare, saranno in coordinamento con le altre forze di polizia, proprio per evitare quelle duplicazioni in mare e quelle attività, diciamo, ci saranno attività coordinate quindi con le altre forze di polizia, questo è di certo. 15.30 è un numero appunto di emergenze, è un numero che va utilizzato solo per dichiarate emergenze. Resistenza pubblico ufficiale e occupazione abusiva di immobile e di proprietà pubblica. Due donne sono state denunciate per aver occupato da sabato scorso un appartamento di proprietà Arca Puglia in via degli Abruzzi. Dopo l'intervento della polizia municipale, la situazione si è risolta la scorsa notte con lo sgombero dell'immobile e la denuncia delle donne. L'appartamento sarà ora assegnato a nuovi inquilini in possesso di un titolo legittimo. E parliamo di sicurezza. La sicurezza d'estate non deve andare in vacanza neanche per i farmaci. Con il caldo eccessivo sono a rischio gli anziani e coloro che assumono medicinali. Sentiamo qualche consiglio dal dottor Ludovico Abaticchio. L'anziano deve tutelarsi dal caldo innanzitutto, bere molta acqua, stare in luoghi freschi, evitare passeggiate a mezzogiorno, quindi mattina presto e pomeriggio tardi. I farmaci devono essere tenuti sempre all'ombro, al fresco, evitare di trasportarli in viaggio, per esempio in contenitori dove batte il sole. E soprattutto farmaci come quelli antipertensivi o per i diabetici bisogna rimodulare la dose. Quindi bisogna controllare un po' lo stato dell'arte terapeutica, parlare con i propriamenti di famiglia e organizzare soprattutto la gestione del farmaco attraverso anche una corretta interpretazione dell'assunzione. Noi dobbiamo capire che la medicina ha cambiato molti aspetti anche sul piano della cura, però il rapporto con i cambiamenti climatici diventa strategico anche associare con attenzione le due cose, cioè il caldo per esempio e quindi la terapia farmacologica. Qualche rimedio per il caldo? Indubbiamente bere molta acqua per gli anziani, stare all'ombra, andare a mare per esempio nelle prime ore del giorno, come anche per i bambini lo stesso, nelle prime tardi ore pomeridiane. Ma soprattutto evitare, perché è diabetico o iperteso, per esempio l'assunzione di frutta molto dolce, zuccherina che può aumentare il diabete ma anche la stessa ipertensione, ma soprattutto fare attenzione alla dieta idrica, acqua liscia da bere, che è molto importante. E Bari per Bene prepara la tappa a Palese Santo Spirito. Questa mattina la riunione organizzativa per pianificare il piano di interventi. Da settembre partirà la pedonalizzazione di alcune porzioni di lungomare, la sperimentazione della raccolta porta a porta e dei rifiuti e un calendario di eventi culturali e ricreativi che saranno pianificati in raccordo con il municipio. Sarà la terza tappa dell'iniziativa Bari per Bene dopo Madonnella e San Nicola. Una passeggiata tra i vicoli di Bari Vecchia per conoscere i segreti della magica notte di San Lorenzo a cura del circolo Acli D'Alfino. Un percorso panoramico snodato tra vicoli, corti e angoli più suggestivi del borgo antico. Il tutto accompagnato da un misto di storie accattivanti e note del folklore barese legate proprio al 10 agosto per trasportare i tanti curiosi nelle antiche storie della città. E adesso il nostro servizio sulla vendemmia nella notte di San Lorenzo nella cornice suggestiva del Tenute Maci a Cellino San Marco. Sentiamo! Cosa c'è di meglio della magia del vino sotto le stelle nella notte di San Lorenzo? Ieri sera si è tenuta per il terzo anno la vendemmia notturna Tenute Maci a Cellino San Marco. Un rito propiziatorio nel rispetto dell'antica tradizione popolare contadina ma anche strumento di promozione del prodotto. Trasmettere valori del vino locale, del Salento, come dei vini veri, autoctoni ma non come vini da taglio come si usava un tempo. E purtroppo, soprattutto sul primitivo temo, ci sia molto pregiudizio ancora per cui bisogna davvero fare molto per farlo conoscere e per diffonderlo tra le persone che sono appassionate di vino buono comunque. E il tempo è la variabile sostanziale per la vita di un produttore vitivinicolo. Un'attesa quasi catartica che dalla cura della barbatella all'arrivo sulle tavole di un calice di vino diventa un esercizio quasi mistico fatto di attese. Consiste, dicevo prima, il taglio di quest'uva, vedersi con gli amici o gli amici importanti, i giornalisti importanti, festeggiare insieme questo momento in una notte particolare dove cadono anche le stelle, con una preghiera al Padre Eterno che ci possa aiutare in questi due mesi che manca la vendemmia non due mesi, un mese e che possa essere propiziatorio per fare una vendemmia ricca abbondante ma soprattutto di grande qualità. E questo era il nostro ultimo servizio, vi lasciamo al meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Al centro, nubi irregolari con deboli temporali. Al sud, nubi e schierite con possibili fiovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, bel tempo con cieli sereni. Al sud, parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, soleggiato ma con poche nubi sparse. Al sud, parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, al nord, bel tempo con cieli sereni.